buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di calendario posturale oggi lavoreremo un po di mobilità articolare e per farlo ci metteremo in questa posizione la gamba destra è piegata con il piede davanti a me quindi lo vedo se abbasso la faccia la gamba sinistra invece piegata con il piede che punta dietro di me quindi se abbasso la faccia non lo vedo a meno che non giro ovviamente la faccia da questa posizione quello andremo a fare sarà salire in ginocchio cioè sollevare il sedere verso l'alto per poi cambiare la direzione dei piedi e ridiscendere in poche parole quello andremo a fare sarà la seguente cosa penso di ruotare in avanti con le ginocchia mentre alzo il sedere scambio la direzione dei piedi il mio piede destro sta puntando a sinistra punterà leggermente verso destra mentre il mio piede sinistro punterà verso destra in questa maniera qua a questa posizione lentamente ridiscendo una volta sarò sceso salgo su scambio i piedi e scendo dall'altra parte lo andremo a fare per una decina di volte dall'una e dall'altra parte poi ci riposiamo e lo facciamo una seconda volta incominciamo piano piano pensate di ruotare avanti le ginocchia e di venire su con il petto uno e lentamente scendo due e lentamente scendo tre e lentamente scendo quattro cinque sei sette otto nove e dieci e si possono un po' sciogliere le gambe scuoto bene andremo a ripeterlo un'altra volta ripartiamo prima siamo partiti con la gamba sinistra in avanti adesso partiamo con la destra e ci facciamo altri dieci movimenti vado uno due tre quattro quattro cinque sei sette otto otto nove e dieci e si tornano a sciogliere bene le gambe ci facciamo anche un terzo round prima di salutarci ripartiamo con una gamba ora ho messo davanti la destra potete partire tranquillamente con quella che volete ultimo round uno due tre quattro quattro cinque sei sette otto nove e dieci e si scuotono bene le gambe si rilassano un po' le ginocchia che hanno lavorato non poco e noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani per nuove e mirabolanti avventure attra